Riccardo Piacentini, una vittoria importante questa della Cairese, la prima in questo format playoff, una vittoria importante, insomma anche il tuo gol è stato molto importante perché ha consentito ai giallo-blu di passare per la prima volta in vantaggio in questa gara che non era iniziata benissimo. No, hai detto bene tu, è stata una gara complicata perché dopo un buon primo tempo, come ci era già capitato in altre occasioni, ci siamo ritrovati sotto e nonostante avessimo condotto noi la partita fin dall'inizio, poi recuperarle certi tipi di partite è sempre un problema, siamo stati bravi ad entrare subito dall'intervallo con il piglio giusto e a ribartarla subito nei primi dieci minuti, poi diciamo che sulle ali dell'entusiasmo con gli spazi che si sono creati l'abbiamo chiusa definitivamente, abbiamo portato a casa i tre punti che penso meritassimo ecco anche per le due precedenti partite in cui ci eravamo comportati molto bene ma avevamo raccolto solo due X e quindi ci godiamo questa prima vittoria. È inutile nascondersi anche nonostante soprattutto le tante assenze lì in mezzo al campo. Assolutamente, questo format secondo me comunque è molto limitante perché con la doppia munizione, cioè con due gialli scatta la squalifica e ogni domenica devi fare i conti sempre con più di un giocatore squalificato quindi non era facile per come ci siamo arrivati ma ogni ragazzo che fa parte di questa squadra ha dimostrato ampiamente di poterci stare dentro. Il problema è che la Cairese ne prende parecchi di gialli. Anche molto discutibili secondo me, senza andare poi nel tecnico, secondo me oggi ci sono stati troppi gialli a favore della Cairese, mentre secondo me una buona metà potevano essere tranquillamente evitati. Ecco dal punto di vista personale sei tornato al gol, una prestazione comunque importante, che giudizio ti dai? Ma fa sempre piacere, come hai detto te poi è stato un gol importante perché ti ha consentito di andare davanti, però diciamo che la nota lieta di giornata secondo me è tutto il reparto offensivo che è riuscito ad andare in gol. Non ero l'unico ad aver avuto problemi fisici durante l'annata e oggi siamo andati a segno tutti quanti, a parte Chicco, a parte Beretta, che comunque anche lui ha dimostrato di essere molto molto importante per la nostra causa.